E' pronta la lettera di messa in mora all'Italia per la situazione dei rifiuti a Napoli. La Commissione UE deciderà giovedì prossimo e, salvo cambiamenti dell'ultimo ora all'Italia, avrà due mesi di tempo per reagire. Il passo successivo è la Corte di Giustizia e le sanzioni. E' da mesi che il Commissario UE all'Ambiente, Janek Potocnik, mette in guardia sull'emergenza rifiuti a Napoli, affermando che in assenza di miglioramenti non avrà altra scelta che proseguire con la procedura di infrazione UE e conseguenti sanzioni pecunarie. Il 4 marzo 2010, infatti, l'Italia ha subito la prima condanna della Corte di Giustizia UE per non aver adottato tutte le misure necessarie per smaltire i rifiuti. In caso di seconda condanna, le sanzioni verrebbero applicate sulle carenze di gestione passate e future. Intanto racimola consensi il progetto Plasmare, presentato a Napoli dal Centro di Ricerca Navale di Fincantieri, che consiste nella creazione di isole galleggianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Nel dettaglio, il progetto prevede la costruzione di una chiatta con a bordo un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e la loro trasformazione in combustibile, il cosiddetto CDR, mentre una seconda chiatta, ancora in fase sperimentale, trasformerebbe il CDR in energia attraverso un processo di gassificazione con la tecnologia al plasma. Con il ritorno dei cumuli in città, però, nella notte si sono verificati 13 incendi a Napoli e provincia. Le fiamme hanno interessato maggiormente il centro storico del Capolugo Partenopeo, mentre la restante parte si è concentrata nell'area flegrea.